Scusi, ha una moneta. Ha una moneta di... Il signore, il signore ce l'ha. Guardi cosa c'ho? Io ho una bottiglia di... E' una moneta. Come puoi vedere la moneta non può entrare in nessun modo nella bottiglia. Cerchiamo di fare una magia perché io sono un mago. Ci provo qua, non sono sicuro. Guardi bene, provo eh. Il trucco c'è ma non si vede. Ora guardi, non può uscire né da qui, né da qua, né da qui. Facciamo così, proviamo a farla uscire in qualche modo. Facciamo vedere. Si vede? Si, si. Vediamo se riusciamo a farla uscire. Grazie. 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 Grazie.